come stai? spero tu stia bene e spero anche che tu abbia passato delle festività nonostante il periodo il più serene possibile oggi per farci un po' di compagnia volevo fare due chiacchiere con te quindi volevo farti vedere i miei regali di natale prima di farti vedere comunque ogni regalo ci faccio un po' di suolo perché comunque mi hanno fatto dei pensieri veramente triggerosi veramente molto rilassanti quindi è magico proprio questo è proprio magico tu intanto rilassati comincia a sentire le palpebre pesanti il sonno che arriva per dormire un po' sereno assieme a me rilassati 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 con questa dolce beve che è di coccola di coccola di coccola è pura magia secondo me allora passiamo ai regali il primo regalo purtroppo l'ho dimenticato di fuori in soggiorno quindi ti faccio vedere il cartoncino allora mio fratello mi ha regalato queste cuffiette perchè il mio caro gatto mi ha spezzato quelle vecchie quindi mi ha regalato le cuffiette che sono così bianche molto molto comode devo dire veramente molto comode è un pensiero molto 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 utile e questi tipi di cartoncini secondo me fa tappi meraviglioso tappi meraviglioso tappi meraviglioso ok ok tappi meraviglioso allora mia mia mamma e mia zia e mia cucina mi hanno fatto lo stesso pensiero siccome che io vado pazza per agende, quaderni, diari, tutte queste cose mi hanno preso questa bellissima agenda sono due una e due una e due dato che sono uguali le ho unite assieme da questo punto con un elastico e con l'uncinetto dato che io comunque so usare l'uncinetto faccio l'uncinetto ci voglio fare con della ciniglia che è veramente troppo 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 soffice voglio farci una copertina e per in modo tale che diventi un'agenda unica praticamente da due le faccio una unica quindi sono proprio curiosa di vedere se questo progettino mi mi verrà bene ecco casomai ti farò vedere allora la parte davanti della copertina è rosa e dietro è rossa però io anche davanti la vedo rossa da qui è rosa comunque è rosa è rosa è rosa è è rosa è è rosa rosa è rosa è rosa è rosa rosa ok io adoro anche il suono così di per sfogliare delle pagine che trovo super super rilassante sia da vedere che da ascoltare adesso passiamo a gli altri regalini che praticamente sono degli sfalti io li tengo in questo astuccio magari un'altra volta la prossima volta ti posso fare anche video sui miei sfalti giusto per piangere comunque hanno un suono anche bello quando le boccette si toccano quindi lo farò li tengo in questo astuccio qui perchè io amo le luci glitter paiente cose difatti quest'anno a casa mia l'ho fatta una discoteca ho messo luci luci natalizie comunque mi piacciono quindi sembra di essere il disco sembra di essere il disco anche amo anche le paillettes fanno un suono meraviglioso secondo me troppo 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 rilassante ci sono il ci sono che ci sono le due le due pioggia il ci sono pioggia di Sì. Grazie a tutti 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 Ecco qui Questi Non so Di Natale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti